Salve ragazzi, bentornati su Nemesis, io sono ancora qua che salto felice su questo letto come un pazzo perché siamo esattamente nel punto dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio cioè, quando eravamo morti, malissimo e niente, il mio computer inizia a laggare perché ogni tanto lagga, sto deficiente, non so perché prendiamoci un po' di blocchi da costruzione e cerchiamo di recuperare quello che abbiamo perso sarà una cosa abbastanza complicata da fare, lo so però ci proviamo, ah, ci avevo, bene, bene, ci avevo questi cosa altro mi potrebbe servire? Nulla mi prenderò semplicemente questi e magari mi prendo un secchio di acqua voi direte, a cosa ti serve il secchio d'acqua? Mi allontano i nemici, potrebbe essere utile, ok proviamo e vediamo se riusciamo a prendere le cose che abbiamo perso io spero di sì perché c'era un'armatura di ferro completa una spada di ferro, un piccone di ferro, un'ascia di ferro, del cibo c'era un bel po' di roba che mi piacerebbe tantissimo riprendermi visto che io in questa mappa ci sto buttando veramente l'anima e oltre a un sacco di ferro sarebbe bellissimo recuperare le cose che ho perso quindi cerchiamo di non morirci male cerchiamo di andare con calma, non con troppa calma perché altrimenti mi despona tutto però con una certa calma, vabbè che qua c'è anche del ferro sì ma quando cavolo riuscirò a prendere io sto ferro cioè devo bonificare tutta la zona se è un lanciafiamme ok andiamo qui con molta calma e qua si muore ecco perché io sono cascato qua come un deficiente perché me l'ho dimenticato assolutamente che qua succedeva questa roba qua allora da qua io vado, oh bene 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 molto molto bene eh non proprio benissimo bravo casca giù con gli altri per favore ok eh dove sono cascato io? eh come cavolo ci arrivo chi è che mi sta esplodendo vicino? perché? allora fatemi vedere dov'è la mia roba la mia roba? dove andate a fine mia roba? allora qua ci sono le frecce vabbè ma io voglio l'armatura non mi butto per quattro frecce raga non vedo l'armatura non sto vedendo la mia armatura qua sotto il che è molto drammatico e dove potrebbe mai essere finita la mia armatura? cioè non la trovo qua non c'è sicuro qua ci sono loro che rompono le palle e basta va bene nell'acqua ma non vedo ne... oh mio dio non vedo la roba mia cioè oddio santo raga mi sono perso i pezzi ma non ci voglio credere la c'è esperienza qualcosa tipo polvere da sparo e non la vedo proprio eh se non c'è l'armatura io non mi lancerò mai forse sta qua armaturina ehi ragazza cioè voi vi rendete conto di cosa c'è qua sotto vabbè tentiamo una cosa molto scialla che è questa porca miseria zozza mi son salvato proprio per... non è vero non è vero mai buongiorno tua sorella la conosci? no perché io la conosco benissimo fa anche un bel lavoro tua sorella te possino ammazzarti a te e chi te lo dice? come non detto va bene ci riproviamo allora abbiamo capito che praticamente in questo... in questa mappa non è che serva molto avere un'arma più che altro servono i picconi per disabilitare gli spawn quindi prendiamoci altri blocchi da costruzione che stanno qua del legno ce l'ho ancora da qualche parte per fortuna c'ho del legno ci facciamo degli altri stickettini e... niente la roba che... ho capito che qua la roba che perdi la perdi punto stop non la recuperi più quindi a sto punto i soliti attrezzini di pietra proprio quelli grezzi rozzi stupidi inutili però quelli ci campano raga e quelli ci portiamo non posso fare nulla di diverso da questo due picconazzi così e... delle torce ce l'ho sì le torce ce le avevo me ne porto di meno stavolta perché porca miseria non ci voglio morire male blocchi da costruzione guarda questi li lascio qua mi porto questi blocchi misti che va bene così mi porto anche il ghiaccio che va benissimo così c'è altra roba che posso usare come blocco da costruzione per risparmiare io devo risparmiare ragazzi ecco la gravel porto sta roba qua mi porto pure isla cioè voglio dire guardate come sto combinato cioè non lo so non lo so io non lo so se è normale comunque vabbè riproviamoci spero di non scordarmi nulla ho riperso il secchio ma porca zozza ho riperso un'altra volta il secchio mi sono rotto le palle di questo livello basta ok andiamo e mi sono accorto che c'è del ferro anche lassù cosa molto buona ma allora dai un po' di ferro lo posso anche recuperare proprio tanto per per essere tirchi e taccagni e spilorci allora per favore criamo non morirci almeno stavo non ci morire un'altra volta ti prego mi sta venendo l'angoscia vederti giocare cosa dite sto parlando con me stesso si lo so ma è uno sdoppiamento della personalità che capita a chi gioca questa mappa quando arrivi a questo livello dopo un po' la tua personalità si sdoppia c'hai un rifiuto della realtà e praticamente vivi in un mondo parallelo in cui il tuo personaggio è un'altra persona rispetto a te perciò c'erano queste cose molto strane non ci fate caso è tutto tutto normale questo blocco di ghiaccio si squaglierà e non ce ne frega niente anzi tanto meglio che si squagli qua ne metto un altro così quando si squaglia mi tiene la gente lontana ora io devo assolutamente andare da qualche parte di utile adesso non voglio essere buttato giù da qualcuno possibilmente quindi come facciamo per non farci buttare giù devo crearmi qualcosa dietro che mi protegge e qualcosa di lato che mi protegge solo che io di lato che me creo niente allora per il momento non vedo scheletri ora a sto punto io raga me la gioco sporca me la gioco molto sporca perché sinceramente mi sarei anche un po' rotto le palle sono sincero sono molto sincero sono potentemente rotto le palle e quindi l'unico modo per giocarci la sporca è passare da sopra io ve l'ho detto che alla fine sta mappa la devo fare così cioè non è che scherzavo ecco poi magari se porca zozza scaviamo così e ce la facciamo da su in stile mission impossible e poi ci caliamo all'interno di quel coso che non so nemmeno se c'è il blocco di lana guarda a me mi interesserebbe il blocco di lana me ne frega niente delle ceste delle altre cose voglio solo il blocco di lana me ne devo andare da sta mappa mi sono rotto le palle cioè non ce la faccio voglio il blocco di lana me ne vado bello felice brucio tutto e ciao guarda quando finiremo questa mappa la TNT faccio saltare tutto per aria te lo giuro proprio deve essere un'esplosione un boato atomico ok va bene continuiamo la nostra scavata mistica mamma mia la tragedia ragazzi la tragedia guarda sto sprecando sto usando i blocchi che non mi servono perché mettiamo delle torce così voi vedete qualcosa perché ok con calma siamo arrivati ad una possibile svolta e adesso io userò anche gli slab mo non ci caderemo che veramente mi incazzo come una faina assassina sai così 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 ok ok con calma con calma con calma usiamo questo blocco di ghiaccio non ce ne frega niente a noi cioè avevo della sabbia c'ho della sabbia va bene butterò della sabbia qua perfetto ci posso mettere un blocco di ghiaccio anche qua ottimo ottimo ok zitti tutti fermi non fiatate non parlate cosa c'è qua sotto nemici ci muoio male se mi butto no sembra un posto tranquillo non ci credo sembra un posto tranquillo cosa c'è le mele di tua sorella tu le conosci le mele metterò una canzone grazie non lo farò mai più ok a cosa mi è servito arrivare fino qua fatemi capire cos'è un avamposto per stare tranquilli e quindi poi che faccio vi rendete conto che tutto sto casino l'ho fatto praticamente inutilmente ma dei funghi mi è l'idea che almeno mi faccia una zuppetta di qualcosa no vabbè che tanto il cibo ce l'ho ma chi se ne frega dei funghi e niente ok questa me la prendo molto volentieri mi prendo anche questa mi prendo pure questa guarda guarda mi prendo tutto non me ne frega niente e mi prendo pure i letti così li vado a piazzare da qualche parte va bene è stato molto utile arrampicarsi fino qua su perché alla fine abbiamo ottenuto un bel nulla assolutamente nulla quindi adesso io devo risalire e riandarmene assolutamente da qua bene sono le cose belle della vita vedi le soddisfazioni solo che io so benissimo che là c'era una chest come la raggiungo quella chest perché secondo me in quella chest potrebbe esserci qualcosa di davvero molto utile quindi è rischioso lo so perfettamente che è rischioso ragazzi però io l'ho vista e la voglio andare a prendere mi costerà un bel po' di fatica sicuramente però ci proviamo allora intanto scaviamo un tunnel parallelo qua perché mi ricordo che c'era un punto dove avevo visto una chest vicino degli scheletri quindi adesso piano piano ecco arrivo a questo livello scavo felice come una talpa scavatrice il giorno di natale non so nemmeno se sono felice il giorno di natale però sicuramente scavano facciamo così e ci avviciniamo da quest'altro lato alla zona chest che sai una bella armaturina di diamante in questo momento non è che mi farebbe proprio schifo anzi un'armaturina di diamante mi svolterebbe anche la vita in questo momento devo dirvi la verità oh ok dobbiamo cercare di osservare sto ancora qua non ci voglio credere ok niente devo andare di qua da qua nessuno può entrare vero? ciao creeper eh si ciao ok per fortuna ho preso anche altri picconi mi sono portato anche la crafting table voglio dire perché sono furbo ho pure i sticchettini raga do cacchio sono andato a finire che è sto posto? questo no non me lo ricordavo potrei rompere questo? potrei rompere questo cosa c'è qua di bello signori? oh dio santo ma questa è un'altra zona ancora io non ci sto credendo sto in un'altra zona ancora? tu ti rendi conto che non stai bene cioè perché perché hai creato questa cosa? perché? perché c'è questa roba così assurda qui dentro? posso avere un punto? ok quello è il punto di riferimento la chest ok ho capito dove sono più o meno ma qua dentro cosa c'è però? non riesco a capire non si vede assolutamente nulla una cippa di niente signori la chest è la quella è la chest che stavo venendo a prendere vedete? quindi adesso io scenderei di qualche blocco tipo così e mi vado a succhiare esattamente me la succhio la roba che sta in quella chest come rimborso spese perché giustamente ci sono morto un sacco di volte ho perso un sacco di roba quindi in quella chest secondo me visto che è conservata proprio in modo sicurissimo circondata da mob e roba del genere secondo me là dentro c'è qualcosa di molto molto buono anzi guarda vi dico di più secondo me là c'è qualcosa che non abbiamo ancora mai visto in questa mappa quindi secondo me ci potrebbe addirittura spuntare qualcosa tipo diamanti armature di diamanti un set completo anti creeper che ne so un blast protection 57 che sarebbe protezione dell'esplosione e mi sarebbe tanto comodo tantissimo comodo ok una facciatina eh non vedo niente ok eh no voi non dovete stare qua assolutamente perché rompete solamente le palle allora secondo me la cesta potrebbe stare qua vediamo quello è il piede di un creeper non è una cesta ma quella è una cesta come uno smeraldo mmm che bello ho preso uno smeraldo wow che cosa ci faccio vabbè io non ho più parole ve lo giuro io non ho più parole per descrivere per descrivere la delusione e l'amarezza di questa mappa io non ho parole praticamente in tutto questo tunnel abbiamo vabbè siamo morti ovviamente abbiamo beccato la cesta con uno smeraldo quattro mele schifose e basta cioè questa è stata la ricompensa per essere arrivati qua là dietro c'è qualcosa fammi vedere se qua c'è qualcosa no no è tutto muro quindi me ne posso anche andare giusto me ne posso andare ok bene quindi questa galleria era da considerarsi una cretinata ora mi rimane quella galleria là e quell'altra galleria là oddio santissimo voglio morire io non ci sto credendo che sto facendo tutto sto casino raga non ci sto credendo là che cosa ci sarà e chi lo sa allora la vedo bella piena piena di ragnatele il che mi inquieta moltissimo il problema è come cavolo ci arrivi senza morire è un casino devo affidarmi per forza ai miei amatissimi blocchi da costruzione costruirmi dei ponti assurdi e spostarmi sopra questi creeper assassini sempre con il terrore che si spuntano scheletro e mi guarda casco giù ed è la fine di tutto praticamente ok giriamo molto calmi tranquilli senza senza preoccuparci troppo in modo anche abbastanza sbarazzino e fischiettando voglio dire perché no ok là ovviamente ci sono altri 2797 spawner di creeper nascosti in culonia che non si capisce dove ma non importa intanto io mi sono avvicinato a questa zona che è la cosa che volevo assolutamente fare ok sono qua adesso che si fa? non lo so si rompe qua e si vede qua dentro vedo vedo dell'ossidiana fermi tutti ragazzi quello è ossidiana e l'ossidiana solitamente indica qualcosa di strano perché voglio dire non l'ho ancora mai vista l'ossidiana qua dentro e se l'ho vista non mi ricordo comunque c'è ossidiana andiamo a sbirciare magari trovo sto blocco di lana e me ne vado ti prego io mi sono rotto le palle di vedere creeper poi i creeper io li schifo ho visto qualcosa creeper ovviamente ma porca zozza mettiamo delle torce ragazzi ragazzi state tutti calmi state tutti tranquilli e non vi agitate mi raccomando rilassatevi voi a casa ecco prendetevi un bel caffettino non lo so fate qualcosa una pirouetta soprattutto fate un po' di tifo assassino eh mamma mia ragazzi secondo me non c'è niente manco qua io sto scavando un deficiente io vorrei avere una svolta in questa mappa è possibile avere una svolta una piccola svolta una soddisfazione qualcosa cosa c'è là il buio totale non vedo niente io non vedo assolutamente nulla non so che devo fare continuo a scavare così imperterrito come se non ci fossero domani va bene continuiamo a scavare ragazzi che vi devo dire cioè boh io non lo so non lo so cioè voi capite che per me è impossibile scendere non è che sto facendo quello che campera non ci sono alternative cioè non ho un modo per scendere laggiù perché i mob spawner ne sono tanti sono nascosti sotto le pietre quindi valli a trovare là ci sono creeper non è che ci sono zombie che dici vabbè sono zombie li tengo a distanza saltello no i creeper esplodono muori cioè non c'è un'altra soluzione per affrontare questa questa parte della mappa ma che cosa cavolo c'è qua che non si vede niente no tu stai scherzando si scende ancora più giù tu no tu non stai bene ragazzi io te lo dico veramente io mi sto seriamente preoccupando per te ma che cavolo perché perché questa roba perché devo trovare questa roba in questa mappa non è non è una cosa buona oh mio dio non si vede niente mettiamo una torcia che vedevo di raga mettiamo torce noi siamo gli omini delle torce andiamo in giro mettendo torce dai dai qua che cosa c'è di bello ti prego ti prego un pezzettino di guarda me lo fabbrico io a casa un pezzo di lana se non me lo dai te lo giuro non ce la faccio più dammi un pezzo di lana e voglio mettere la parola fine a questa parte di mappa con i creeper perché non mi sta piacendo non si vede niente c'è solo il nero dell'ossidiana ok almeno sono arrivato a una fine qua c'è un muro che finisce il che mi fa anche piacere potremmo andare a vedere un attimo più avanti cosa c'è ma voi vi rendete conto che di là si scendeva giù si cade ancora più giù benissimo ultimo picconazzo in mano ma me ne posso fare degli altri per fortuna ok è arrivato qua io che dovrei fare secondo voi scusa cioè fammi capire ok sono arrivato a questo punto bello molto bello ah bellissimo questa mappa per carità una figata arrivo qua perfetto è finito il muro quindi scendo in questo modo ok mi affaccio anche dove proprio tocco la terra in questo caso è l'ossidiana ok sono momentaneamente protetto da un po' di ragnatele va benissimo così adesso scendo ancora più giù perché io mo son curioso di capire cioè a che serve sta galleria capite perché io sono arrivato fino qua nella speranza di trovare qualcosa ma ovviamente secondo me io non troverò nulla qua se non una morte prematura ragazzi cioè io non so se voi vi state rendendo conto di che cosa ci sta qua sotto e non so se vi state rendendo conto che potevo morirci ok io sto illuminando il nulla più totale io ho il terrore di mettere il piede sull'ossidiana ve lo giuro cioè io secondo me come tocco l'ossidiana si muore là sotto raga che devo fa' eh ma ormai siamo arrivati all'ossidiana ok signori siamo all'ossidiana eh bene molto bene non vedo niente ragazzi mi sto terrorizzando veramente mi sto cagando addosso in un modo incredibile quello è un creep oddio santissimo ecco che cosa non mi son portato l'arco perché non mi son portato l'arco ragazzi quelli sono charger creeper cioè creeper caricati levate mister agnatele da dosso dammi una cacchio di spa creeper caricati ma tu sei serio? allora in teoria non possono mai arrivare qua però il problema è che io non vedo niente allora facciamo una cosa furba con calma eh perché ho capito i creeper caricati ma insomma qua si esagera qua secondo me stiamo esagerando tantissimo oh mio dio dove cavolo sto andando ragazzi non si vede nulla voi non vedrete nulla ma vi assicuro che si scende ancora c'è dell'ossidiana dei creeper caricati e si scende ancora e il problema è che io non vedo niente cioè non so nemmeno se involontariamente sto facendo una scaletta per i creeper oh mio dio oh mio dio guarda è meglio che faccio così secondo me si decisamente oh mio dio allora eh ragazzi io ormai sono anche senza torce sono senza parole sono senza torce non so che cavolo devo fare qua degli spawner di charger creeper buttati nell'ossidiana tu sei un folle e non riesco a vedere cosa c'è là sotto perché come cavolo faccio vede qua c'è qua c'è dell'ossidiana non so dove sto raga non so più dove sto cioè non vedo più non questo ok ho capito che qua posso piazzare un blocco va bene mi dispiace che non ho più torce e quindi probabilmente non si vede più non si vede niente niente io dubito che il blocco di lana sia lì sotto ragazzi parliamoci chiaro e tondo dai non può stare là allora c'è una cosa che io posso fare c'è una cosa molto buona che io posso fare che fondamentalmente è questa mi metto qua prendo una cesta la butto ci butto tutto quello che ho tutto ragazzi tutto proprio senza problemi anzi vi dirò di più se io riuscissi a piazzare un letto qua ok posso dormire zitti tutti che ho piazzato uno spawn qua bene una volta piazzato lo spawn io posso fare una cosa molto kamikaze tanto c'ho tutto quanto là che mi frega a me dove si va di qua ok qua ci sono dei creeper io voglio andare a vedere là sotto cosa c'è come faccio mi butto nella ragnatele aspetto di scendere lentamente mentre muoio che devo fa così cosa c'è qua sotto non c'è niente non mi è pazzo di vedere nulla adesso ci riprovo di qua così è una parola no raga non c'è niente non c'è assolutamente nulla cioè io sono sceso qua mi prendo anche una torcia stavolta per vedere che cosa il nulla più totale piazza questa torcia ok la torcia l'ho prendata e non c'è niente non c'è niente non c'è assolutamente niente qua dentro vi rendete conto io che cosa sto facendo mi sto lanciando come un deficiente nella speranza di vedere qualcosa mi sono anche perso dov'è che ci si lancia di qua qua prendo un sacco di danno solamente a cascata dov'è la torcia che avevo messo è saltata per aria con il creeper vabbè cosa cavolo sto vedendo non è non è umanamente fattibile questa cosa io ve lo dico io non voglio essere ok cosa c'è qua buttati eh buttati e muori boh cioè raga ditemi voi io che cosa dovrei fare in questo momento perché sinceramente non ho proprio idea di come cavolo affrontare questa mappa cioè non so nemmeno se qua c'è qualcosa di utile ok questo è un enderman si stanno esplodendo va benissimo ok sono esplosi tutti eh si sto proseguendo in questo modo abbastanza particolare diciamo così ciao vabbè non ci ho manco fatto un passo ovviamente essendoci l'ossidiana qua sotto pur se questi esplodono i loro mob spawner non li disabilitano perché i mob spawner che c'hanno loro ecco ciao moriamo tutti insieme va benissimo secondo me questa parte della mappa è inutile non credo proprio che sia qua comunque ragazzi io che vi devo dire per questa puntata mi fermerei qua come avete visto siamo bloccati cercherò di tornare su vabbè torno su e nella prossima puntata vediamo quell'altra grotta secondo me il blocco di lana sta in quell'altra grotta non so dove cavolo sbatte la testa per questo episodio è tutto mi raccomando ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like spolliciate condividete se il video è anche il canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando anche sulla campanellina così riceverete tutte le notifiche io dal buio di questa grotta abitata da creeper assassini vi saluto e vi do appuntamento sempre sul canale per un prossimo video ciao ragazzi ciao